Sentite che roba? Sentite che roba? Proprio oggi ce la non era, vento, spezia eh! Sentite, sentite i uccellini che cantano ma oggi non li metto fuori perché fa freddo, prendono il raffreddore. Guardate, guardate! Proprio, mi raccomando, lascia gli un po' di... Sentite, sentite che roba! Guardate la giù! Mamma mia! E' proprio vento incavolato! Speriamo che lasci su un po' di foglie eh! Eh, guardate! Forza! Accenderanno tutte le noci qua! Dai, forza, ancora un colpo! Proprio! E dai! Guardate che roba ragazzi! Piano, trattami bene quell'albero per favore. Bene, chiudiamo qua con il rumore della bufera, vediamo Montesanto dove c'è il di più, eccolo, 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 ecco, adesso ancora peggio, poi mi fa partire via il telefonino qua. Eccolo là. Oggi è proprio nera, ragazzi, eh? Vabbè, chiudo qua.